Al Caffè Letterario, ieri pomeriggio in occasione di Ravenna Festival, letture in pubblico della Divina Commedia rivolta a turisti e ravennati e a tutti coloro che avevano voglia di condividere nella propria lingua un brano delle cantiche dantesche. Caffè Letterario, letture di Dante, come funziona? Come fermata tra delle persone poi? Dunque, funziona che noi creiamo questo piccolo set in alcuni bar di Ravenna che hanno aderito. Oggi siamo al Caffè Letterario, lo scorso weekend eravamo alle Due Dame e il Tre saremo al Costa Caffè e sostanzialmente chiediamo alle persone di se di fermarsi, leggerci alcuni passi della Divina Commedia quelli che preferiscono oppure aprendo a caso le tre cantiche e in premio attraverso la Dante Card che abbiamo creato ad hoc hanno un aperitivo a 5 euro e due biglietti a 5 euro per qualsiasi spettacolo del Ravenna Festival. È un'iniziativa che abbiamo creato per poter avvicinare sia il tema di Dante sia il Festival alla città e sembra che ci sia un ottimo riscontro positivo. Se visitate la nostra pagina Facebook vedete i video che creiamo, sono molto divertenti. Il 18 di luglio invece ci sarà la serata conclusiva in Darsena, quindi si chiamerà Dante in Festa e lo facciamo in collaborazione con il Comune e Ravenna 2015. Fermate anche gli stranieri, non solo i ravennati. Assolutamente sì, abbiamo avuto la Divina Commedia letta in greco, in inglese, in spagnolo, addirittura in inglese. All'interno del Caffè Letterario oggi pomeriggio anche una mostra fotografica. Sì, abbiamo scelto il Caffè Letterario anche perché sta ospitando questa bellissima mostra di due fotografe Maria Elisa Ruggeri e Emanuela Ruggiu che hanno immortalato alcuni momenti del Ravenna Festival dei ballerini con delle fotografie dai colori intensissimi che sicuramente meritano una visita.